What's body gotta do? qualcuno mi ha chiesto ma posso fare anche questo col tablet sì sì assolutamente sì oggi ragazzi voglio farvi una domanda perché sono certo che molti di voi conosceranno la risposta ma altri verranno stupiti lo sapete che si può cambiare la tastiera di digitazione del vostro smartphone o tablet se non lo sapete se per caso siete come me che avete un telefono che è abbastanza bello ma c'è la tastiera che capisce meno della nonna a belarda è meglio avere una soluzione alternativa per poter usufruire di una nuovissima coloratissima eccezionale tastiera che sia anche molto più intuitiva oggi voglio quindi portarvi tre esempi di tastiere le tre migliori tastiere secondo me che potete avere sul vostro dispositivo che potete tranquillamente sostituire con la vostra tastiera originale la prima applicazione ragazzi del quale vi voglio parlare si chiama flexi e la state vedendo nel desktop al mio fianco del mio dispositivo è quella con il pallino blu ovviamente non vi spiego neanche dovete andare sul play store digitare flexi f l e k s y in modo da installarla e averla sul vostro dispositivo io l'ho reinstallata quindi adesso si aprirà apparirà l'icona nel desktop la andiamo a cliccare e vediamo appunto il tutorial della nostra flexi come vedete uno fase numero uno questo ve lo chiede sempre abilita flexi quindi dovete dire al vostro cellulare che non deve più usare la tastiera standard che era già stata installata quindi clicchiamo semplicemente la sopra e come vedete io ho g board che è la sua tastiera originale con away swipe che è la tastiera dedicata di away come vedete ragazzi c'è l'opzione flexi si formerà l'opzione flexi giustamente lui ci dice attenzione se tu decidi di far di usare una tastiera per inserire le tue cose stai molto attento perché il proprietario potrebbe captare i tuoi dati sensibili ragazzi stiamo parlando di tre tastiere che sono state create da aziende grosse grossissime che non hanno di certo bisogno quindi andate pure tranquilli sono tastiere più che testate da migliaia e migliaia di persone quindi gli diamo ok si passa al passaggio numero due seleziona flexi giustamente riclicchiamo sopra e come vedete lui mi dice qual è il metodo di inserimento che vuoi per il tuo telefono gli diciamo flexi consentire a flexi questo a voi non ve lo dirà comunque se vi dovesse dire consentire vi dovesse dare una pop up dategli sì in modo che consentita flexi di poter usare accedere ai contatti ovviamente e adesso l'ultimo il penultimo passaggio aggiungi la lingua lui ha di default inglese ovviamente figuriamoci che sia un software italiano no è inglese ma ovviamente c'è l'italiano completamente gratuito il download del vocabolario italiano ci mette pochissimo e infatti come vedete abbiamo installato anche l'italiano cliccando appunto sulla voce ciao amico ci dice sono flexi e ti aiuterò a digitare più facilmente non guardo alla precisione sono molto tollerante allora ragazzi guardate tocca per iniziare già vediamo la tastiera molto più grande di quella che siamo abituati a vedere lui dice lui sta scrivendo spazio quando sei pronto a usare lo spazio ragazzi al posto che cliccare la barra spaziatrice sweep verso destra track quindi noi abbiamo strisciato verso destra finiamo di scrivere una parola strisciamo verso destra e lui automaticamente fa lo spazio molto figo non è la parola giusta scorri verso il basso e scegli tra i suggerimenti quindi scorriamo verso il basso e lui ci dà una serie di suggerimenti che state vedendo sopra le parole che noi possiamo andare a selezionare tocca ancora lo spazio per inserire la punteggiatura quindi noi andiamo a fare ancora uno sweep e lui mette un punto scorri a sinistra per eliminare parole intere tasto backspace per eliminare i caratteri quindi ovviamente il backspace è vediamo se riesco a farvelo vedere questo tastino qua questo tastino qua è quello per cancellare ma se noi invece scorriamo proprio completamente verso sinistra come vedete lui sta cancellando una parola alla volta dizionario scorri verso l'alto per annullare la correzione lui sta facendo un esempio di una parola scritta io vado verso l'alto non è awesome che era bellissimo ma io voglio flexcellent che non so bene che cosa voglia dire comunque se vogliamo tornare indietro sapete quando il t9 ti cambia la parola noi dito verso l'alto e torniamo alla parola che avevamo digitato poi ovviamente dito verso destra e facciamo lo spazio scorri verso l'alto per annullare la correzione possiamo tornare indietro e noi abbiamo finito il tutorial l'esperto di flexi appena provato flexi fatto rimuovi la barra spaziatrice ragazzi figata con il doppio finger tac due dita sopra e togliamo la barra spaziatrice anche perché vi ricordo che io potrei scrivere doppio scorrimento verso l'alto e ovviamente tornano le emoticons come potete vedere eccole qua ce ne sono forse anche di nuove credo proprio che ce ne sono forse qualcuna nuova è adesso poi lo andremo a vedere con calma ci sono anche tastiere con emoticons nuove queste per adesso non ci interessano torniamo sulla tastiera ma appunto le emoticons non ci frega abbiamo tutto il segno della punteggiatura come vedete denominato qua con il tasto sulla destra in basso e poi abbiamo la v eventualmente se volessimo abbiamo dei temi anche quindi possiamo decidere il colore io lo voglio nero diciamo che clicco su nero e mi appare appunto tranquillamente la nostra tastiera nera seleziona tema gratuito dai un'occhiata ci sono anche dei temi come vedete community limited edition possiamo metterlo se vogliamo così e abbiamo la tastiera colorata possiamo metterlo così e abbiamo ancora la tastiera colorata diciamo che adesso lo vogliamo ottenere così poi ci sono dei temi festival winter valentine 2016 e tanta roba interessante estensioni trascina rilascia le carte che desideri aggiungere o rimuovere le funzionalità che vuoi tocca le carte per ulteriori informazioni qua ragazzi abbiamo un po' di cose che vi consiglio di andare a giocare ci sono praticamente le scorciatoie che possiamo avere se dovessimo scrivere più volte la stessa cosa i tasti chiavi gli hot key no quindi due tasti premuti che fanno un'azione la pressione ad arcobaleno anche lì andate a capire come funziona le dimensioni invece sono semplicemente relative ai caratteri e alla barra spaziatrice in alto ovviamente a sinistra il nostro solito menu ad apertura come vedete ragazzi questa era flexi assolutamente da provare la seconda tastiera che vi consiglio ragazzi si chiama go keyboard quella che vedete lì con la fogliolina intanto vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo tutorial sulle tastiere da poter sostituire alla vostra originale mi raccomando iscrivetevi al canale go keyboard ragazzi la scarichiamo sempre da google play andiamo ad aprirla cliccandoci ovviamente sopra nel desktop del nostro dispositivo e qua si apre subito la pagina iniziale migliaia di fantastici temi ai low view scegli la tastiera go anche qua ovviamente dobbiamo andare ad abilitare abilità tastiera go go keyboard non raccoglie mai i dati personali sensibili quindi qua addirittura ce lo dicono che non venne salvato niente quindi loro lasciano perdere così sostengono comunque voi fidatevi andate tranquilli attenzione questo metodo di missione ci dice quello che ci ha detto prima dobbiamo andare a dire go keyboard quindi togliamo flexi al momento voi ovviamente non ce l'avrete perché deciderete quello che preferite e andiamo ad abilitare la go keyboard quindi passa alla tastiera go eccola qua ragazzi la go keyboard e si apre appunto la prima parte qua ci fa già vedere che ci sono come al solito le estensioni i temi gli adesivi non ce la possiamo togliere la pubblicità se vogliamo aprire qualche roba ogni tanto se andiamo per esempio diciamo che andiamo su whatsapp vediamo un pochettino andiamo su whatsapp e da whatsapp potremmo aprire vediamo se riusciamo ad aprire come si dice abbiamo abbiamo dragon sticks whatsapp cattivissimo dov'è nick 5 stelle non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo allora vediamo facciamo una prova con wally facciamo una prova con wally vediamo che se noi clicchiamo no queste sono le emoticons se noi clicchiamo su scrivi messaggio appare la nostra nuova tastiera go keyboard anche questa ragazzi non ha un tutorial ma comunque è molto intuitiva ciao vedi ciao e ce lo trova subito sono tesoro ciao ci dà invece delle possibilità di completamento della frase ciao tesoro sono state indietro e non sono un uomo ciao tesoro sono state indietro e non sono un uomo allora come si dice se noi torniamo indietro non torniamo sempre da wally torniamo sempre da wally come si dice e andiamo ad aprire di nuovo la nostra tastiera possiamo cliccare su go la prima icona in alto a sinistra e ci fa vedere che si può editare il testo mettere addirittura del testo copiato cliccando sul tasto clipboard cliccare sul microfono per digitare vocalmente ma soprattutto ci sono le emo joy ragazzi eccole qua le nostre emo joy qua invece si credo ce ne siano alcune nuove io ve le sto facendo vedere abbiamo anche le gif animate eventualmente volessimo mandarle noi possiamo fare una prova facciamo una prova così mandandogli un clapping a wally vediamo un po che cosa succede se io faccio invio ciao tesoro sono stati indietro e non sono un uomo prova a metterglielo vediamo se va o no forse non va con whatsapp aspetta aspetta un attimo voglio vedere quando lo legge che cosa dice torniamo sulla tastiera torniamo sulla tastiera c'erano forse probabilmente va più su facebook che su whatsapp probabilmente non la riconosce abbiamo il tema appunto cliccando sul vestitino che possiamo cambiare il colore la dimensione tutte le solite cose di personalizzazione della tastiera ma lì ci andate a giocare voi e l'ultima cosa invece è le emoticons invece che ci vanno in realtà a richiamare quelle che già conosciamo e possiamo appunto inserire senza nessun problema questa ragazzi era la go keyboard anche questa leggera funzionale soprattutto ci ricorda non tiene traccia dei nostri dati sensibili però ragazzi siamo arrivati all'ultima tastiera che se devo dirvi la mia ho usato per parecchio parecchio tempo voi dite perché non c'è l'icona della tastiera sul desktop shooter non c'è l'icona della tastiera perché non ha icona ragazzi la potete andare poi a modificare dalle impostazioni e infatti io vi faccio vedere si chiama swift che è veramente molto molto bella noi andiamo nelle impostazioni del telefono andiamo direttamente su impostazioni avanzate lingua e inserimento che dovrebbe essere una delle prime voci e come vedete tastiera predefinita non è la go keyboard configura metodi di input via la go keyboard ed eccola qua ragazzi la swift che la tastiera swiss che se noi teniamo swiss che dai basta ok la nostra swift che se noi non riesco a dirlo bene swift che se noi torniamo sempre dal nostro come si dice povero wally che oramai è diventato la cavia della prova delle nostre tastiere possiamo andare a vedere la swift che che si dovrebbe presentare con un'interfaccia abbastanza accattivante ma che al momento non si sta presentando aspetta un attimo perché non si presenta la swift che impostazioni ma come ti permetti di farmi questi grandi fail impostazioni avanzate lingua inserimento swift che scusate eccola qua e scusate scusate dovete abilitarle poi cliccare sotto seleziona swift che migliora le previsioni addirittura ragazzi swift che è non riesco a dirlo è come si dice la la tastiera intelligente perché lui o lei riesce a dando gli ovviamente l'accesso a facebook al ai vostri social ad a memorizzare le parole che usate più frequentemente quindi il dizionario si aggiornerà in base a quanto voi scrivete e digitate vi ricordo potete tranquillamente accedere e come si dice con la vostra swift che è nei vostri profili adesso io faccio accedi diciamo con quello principale ok lui adesso sta entrando con il clascione di clash chiocciola gmail.com mi dice che vorrebbe vedere sui dati tutte le cose e noi abbiamo stiamo facendo l'accesso perfetto swift che apprende il tuo stile in digitazione diciamo personalizza tocca consenti sulla prossima schermata consentire a swift che di fare parte del tuo telefono perfetto vorrebbe visualizzare le tue mele impostazioni va bene diamoglielo pure ragazzi sono software super safe super safe aiuta swift che ad apprendere più velocemente tocca consenti nella schermata successiva in modo che swift che possa prendere il tuo stile di digitazione ciò ti consentirà di utilizzare i tuoi sms tutte le cose così allora tocca le funzioni per personalizzare la tastiera sono mille cose che dobbiamo cliccare e come vedete eccola qua già la nostra tastiera già molto bella bianca e appariscente le lingue sono l'italiano ovviamente e possiamo premere a lungo mettere anche l'inglese se volessimo usare parole inglese direi che vi conviene tenerlo visto che oramai fa parte integrante della nostra cultura i temi della tastiera eccoli qua come al solito a me piace molto quello lì ma mi piace anche molto questo qui diciamo che voglio diciamo che voglio possiamo anche personalizzarlo datemi un secondo guardate quanti ce ne sono guardate quanti ce ne sono che bello pulse pink pulse pink scarica scarica va bene voglio questo voglio questo abbiamo anche ninja pro eccola qua la nostra tastiera personalizzata ragazzi gli diamo una bella v personale lo possiamo anche personalizzare se clicchiamo su ridimensiona vediamo anche che possiamo ingrandirla addirittura a farla diventare veramente veramente molto grande o rimpicciolirla per farla diventare molto molto piccola io in questo momento la voglio così riga dei numeri on oppure riga dei numeri off secondo me conviene tenere la riga dei numeri così evitiamo ogni volta di cliccare il maiuscolo per avere i numeri prova a digitare qua ciao mi chiamo si è chiuso porca sui cosa sta succedendo cacchio cliccato aspetta che ho cliccato qualche porcheria ho cliccata comunque noi adesso andiamo di nuovo dal nostro valterino vediamo vediamo se si apre la nostra wifi 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 che ciao wally ciao ciao sally no non è sally non è sally non abbiamo ancora wally giustamente non abbiamo mai scritto lui non lo conosce quindi ciao wally ci vuole un po è per questa ragazzi sei in vedete che mette già anche lo spazio automatico un video così e glielo mandiamo così allora va bene ragazzi questa era la swift key che io vi permetto di mi permetto di dirvi usatela perché non è male va bene ci siamo dilungati veramente tantissimo spero che le tre tastiere che oggi vi ho fatto vedere vi possano essere d'aiuto io vi ricordo di lasciare un bel like per questo video se vi piace la serie dedicata ai tutorial per android e mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video ciao